Amici della Locanda, benvenuti a questo nuovo video. Come le altre puntate del Giovoavvento, questo piccolo format che sto facendo per questo Natale 2020, in questo episodio sono ospitato nella libreria Mondadore di Piazza Ghiaia a Parma, nella mia città, e in questo luogo di carta, come gli altri luoghi che vi ho mostrato in questi giorni, vi propongo qualche piccola idea a regalo che potreste pensare di fare per questo Natale. La prima perla che vi presento qui dai ragazzi della Mondadori è Tolkien, questo volumone è fighissimo, è un volumazzo tosto tosto, è una biografia, una testimonianza, una raccolta delle sue opere, opere pittoriche, disegni, lettere, fotografie, ed è veramente un capolavoro. Un esempio di quello che magari ha scarabocchiato negli anni, gli appunti, le note a pie pagine della sua vita. Ed è veramente un bellissimo regalo se avete qualcuno che apprezza Tolkien, apprezza il suo lavoro e la sua opera come figura letteraria. Cambiando genere, ma parlandovi sempre di alcuni di quelli che sono i miei libri preferiti della mia vita, i libri preferiti della mia vita, non posso che consigliarvi, se ancora non lo conoscete, non lo avete mai letto o se dovete regalarlo a qualcuno, Shantaram, che è un mattone fighissimo, ok? E il suo seguito, L'ombra della montagna. Queste sono due opere che contengono la vita romanzata dell'autore Gregory Roberts. Il più bello dei due, a mio gusto, è Shantaram, il primo. L'ombra della montagna è un gran libro, ma questo è un capolavoro della vostra vita. E contiene la sua vita romanzata, la sua fuga dall'Australia quando ancora era una colonia penale, la sua rifugiarsi in India e qui soprattutto c'è la sua vita anche come criminale, diciamo, comunque collegato a realtà criminali del luogo. È un libro di viaggio, un libro di percorso, è un libro di una potenza incredibile. Piangerete leggendolo, vi incazzerete fortissimamente leggendolo ed è quello che la grande letteratura fa, ci parla. E questo è un libro eccezionale. Giova consiglia. Parlando sempre di grandi testi, grandissimi testi ciclopici della vostra vita in una dimensione microscopica. Il grande potere dell'universo, il microscopico spazio vitale. Vi mostro alcune selezioni della Garazzanti, dei piccoli grandi libri Garazzanti. Qua i ragazzi di Madore ne hanno a sfare, ok? Ne hanno una pletora di questi titoli, ne ho scelti sei. E perché sono quelli che a me parlano di più. Vi consiglio per questo Natale la Farg, il diritto all'ozio. Per me è un mio gonfalone di vita, ok? Quindi leggetelo se lo conoscete comunque grandemente del nostro tempo e del tempo passato. Gardini, il libro è quella cosa. È una bella analisi sull'oggetto libro quasi come se fosse un essere biologico, ok? Quindi non è solo l'oggetto libro, ma è il soggetto libro. Piccolo è molto molto potente. Virginia Woolf, sapere il greco è sia un esegesi sulla letteratura, il teatro ellenico, diciamo, che sul significato, il significante che ha la conoscenza della lingua greca per un letterato secondo lei. Visto che se c'è una cosa che mi manca del liceo è il greco, vi consiglio di recuperare questo piccolo testo perché racchiude le parentesi molto intime e molto belle. Toro, disobbedienza civile, è nella top ten dei libri della mia vita, è una testimonianza di una rivolta non violenta contro un potere autoritario, letteralmente una disobbedienza civile. È un testo importante, è un testo molto serio, molto adulto, è un testo che vi lascia un segno, è lui che legge voi. Quindi consiglio. Gogol, il cappotto, è una selezione delle opere di Gogol che io apprezzo moltissimo, la mia preferita rimane la prospettiva Nievski, ma per un gusto mio. Il cappotto di Gogol è un bel pensiero regalo per qualcuno che magari non conosce la letteratura russa. L'ultimo piccolo gradiente che vi consiglio è Io so di Pasolini che riprende sia un suo articolo che scrisse negli anni 40 rispetto alle stragi che ci furono a Brescia e a Milano, racchiude anche altri scritti successivi che sono la testimonianza della libertà di stampa e della figura democratica dell'essere letterario. Anche questo è un testo molto forte, molto importante, secondo me è un testo da avere. A me ce lo calda come voi ricorderete, io amo Iperborea Editore in maniera fortissima, ne ho scelti alcuni qua della selezione dei ragazzi della Mondadori, da consigliarvi per questo Natale, per voi o per i vostri amici e o familiari. Il primo libro che vi consiglio è Il Libro del Mare, che è letteralmente la testimonianza di un viaggio in gommone dell'autore e di un suo amico a caccia del più grande predatore alfa dai tempi della preistoria, che è uno squalo bianco della Groenlandia, e in realtà è un viaggio, è quasi tre uomini in barca con uno squalo bianco gigante. Ecco. Uno dei miei Iperborea preferiti di sempre, ve l'ho già consigliato più volte, ma reiterare vi fa sicuramente bene, la vera storia del pirata Long John Silver è un capolavoro, è una storia d'avventura, è una storia di pirati, è anche una storia di sfortune e fortune della vita, diciamo, navigare i mari della vita, direbbe lui, e ve lo consiglio, grandissimo libro. Cambiando formato, ma non cambiando editore, vi parlo di alcune sezioni dei, diciamo, quelli che io chiamo gli Iperborea Big One, un po' più cicciuti, diciamo. Il primo è il libro dei vulcani d'Islanda. Il libro dei vulcani d'Islanda è letteralmente una raccolta di racconti, leggende e aneddoti sui 47 vulcani dell'Islanda, appunto, quindi non è solo un viaggio geografico, è un viaggio nel folklore islandese, molto particolare e molto bello. La via del bosco, ve ne ho già parlato, ho fatto un video apposta solo su questo libro, è un testo assolutamente geniale, intimo e parla di funghi, quindi è lutto, funghi, passaggio, memoria, percorso nella propria intimità. Gran libro. Vi feci un giova consiglia su questo, Magnason, questo sempre Iperborea, il tempo e l'acqua, è una sua analisi oggettiva, scientifica e molto accurata sulla situazione critica del cambiamento climatico che stiamo vivendo in questi anni, che stiamo tuttora vivendo. È un testo molto forte, molto pulito, molto corretto, molto preciso, perché ha dei dati a supporto di quello che ci racconta qui dentro ed è un bel testo Iperborea. Giova consiglia. Cambiando completamente genere vi consiglio la scimmia dell'assassino che è un misteri con una scimmia parlante, quindi va bene anche probabilmente per lettori più giovani, va bene come idea regalo, senza dubbio. È morto, c'è stato un assassino, e questa scimmia ne è il testimone e il narratore di questa storia. Molto particolare, ha vinto una serie di premi, bel testo, inaspettato, l'ho comprata in scatola chiusa perché era un Iperborea e mi ha davvero colpito. Giova consiglia. Pongo se amate la fantascienza o se conosce qualcuno che la ama, Cixin Liu, il problema dei tre corpi, l'ho letto, l'ho amato alla follia, l'unico orientale che io sappia che abbia vinto il premio Hugo ed è una visione della fantascienza in maniera completamente diversa a quello a cui siamo abituati, a quello a cui l'ho abituato io. Bellissimo testo, è una serie, questo è il primo e ve lo consiglio fortissimamente. Come ricordate, come avrete compreso, perché ne compro in pratica uno o due ogni sabato da mesi, amo le edizioni che io chiamo Giga, Mega, Power, Total, Body, Full, Frontal della Mondadori, che ne ve ne ho assenziate un po' perché sono belle, sono bellissime da regalo, sono fatte veramente bene, specie le ultime che hanno veramente alzato il livello rispetto alle prime, prime di tanti anni fa. Cominciamo con questo mega volumazzo all-in Asimov, fondazione, tutto il ciclo della fondazione, in un bel volumone, molto, molto curato. Primo titolo. Clark Heston Smith, vi ho fatto un giova consiglia apposta su questo libro, bellissimo omnibus, bellissima edizione, ha una copertina lisergica, assolutamente fuori di testa, gran titolo, grande idea, regalo. Douglas Adams, Guida Galattica per Autostoppisti, questo è il volume completo che contiene tutti i cinque libri della sua trilogia, non mi sono sbagliato, è proprio presentato in questo modo, lui era un pazzo fuori di testa, fantastico, un fantascienza lisergica, comica, allegorica, e matta, 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 ci hanno fatto anche un film che non è neanche male, sul primo. Questa edizione monodori all-in, oltre che essere un bel librone con una costa viaggiona, è double fass, in quanto ha sostanzialmente due testi, ha l'all-in della Guida Galattica per Autostoppisti di Douglas Adams, e dietro ha Don't Panic di Neil Gaiman, che è la guida per noi alla lettura della Guida Galattica per Autostoppisti, che è una bellissima edizione, Giova consiglia. Parlando sempre di orrori cosmici, vi ho parlato di Carl Ashton Smith, non posso che non mostrarvi la bella edizione del miti di Cthulhu di Lovecraft, come sapete io amo Cthulhu fortissimamente, questa è una bella edizione, bel volumone, impreziosita, bella copertina, se godete i racconti horror o gotici o nichilismo cosmico termobarico, bellissimi di regalo. Altro detto che vi consiglio, per chiudere questa carrellata dei mammut della Mondadori, è questa bellissima edizione di Bradbury, Halloween, che raccoglie una serie di suoi racconti più o meno lunghi, ed è una bellissima edizione, molto curata, perché alcune cose non sono più così banali da trovare nelle vecchie edizioni in cui uscirono negli anni. Veramente, veramente bello. Per concludere voglio consigliarvi tre oggetti un po' più particolari per chiudere questo giovavento. Il primo oggetto che vi consiglio è è questo volume Giornali di Bordo di Lewis Jones, che ha un taglio molto strano. All'interno racchiude alcune delle raccolte dei giornali di bordo di marinai, capitani, di vari secoli, diciamo, e ci fa fare un percorso sia su quello che era la vita in mare, che è un tema che a me piace molto, sia il periodo storico da cui provengono. È una bella edizione, molto curato, veramente un bello oggetto. Io ne ho una copia io a casa, è stato molto interessante leggerlo, e ve lo consiglio come il regalo per questo Natale. Parlando sempre di belle edizioni per Natale, l'Ippocampo Editore ha fatto una serie, ormai saranno, credo, cinque o sei, di volumi, di classici della letteratura mondiale, copertina rigida, rilegati con cura, no? Qui ho Alice nel Paese delle Meraviglie. La cosa geniale di questa edizione, oltre che essere sostanzialmente illustrate, è che sono in 3D, potremmo definire, perché all'interno racchiude, innanzitutto, delle illustrazioni veramente molto belle e un gusto molto, molto curato dell'oggetto, ma puzzle, piccole cose interattive, piccoli disegni, piccoli oggetti che si muovono con voi nella lettura. Sono bellissimi, è un'idea regalo veramente molto bella, ce ne sono vari, ho preso Alice nel Paese delle Meraviglie perché è uno di quelli che ho apprezzato di più, ma può essere una bellissima idea. Chiudiamo questa carrellata del Giovanvento con la vera bomba, la chicca strana che qua c'è. Ovvero sia, vi presento, non ve lo apro perché non voglio aprirvelo, ve lo guardate da soli, se volete andate a cercare di spoiler su Google, la nave di Teseo, di Straca, che in realtà è un nom de plume perché si tratta di J.J. Abrams e un suo sodale che ora non mi viene, Doug Dorst. Questo libro è un libro dentro un libro dentro un libro, cioè questo libro che voi prende, se prenderete mai, io ce l'ho e lo amo alla follia, è un finto libro da biblioteca di questo autore, il signor Straca. La patricità che ha è che questo libro viene preso in affitto da uno studente che ci fa su una tesi e prende appunti sul libro. Una ragazza, leggendo gli appunti del ragazzo, risponde ai suoi appunti sul libro, quindi avete il libro, gli appunti del ragazzo, gli appunti della ragazza al ragazzo e un botta e risposta. Quindi sono tre libri insieme. A questo aggiungete che il libro è ricolmo, proprio a livello, di oggetti fisici che seguono parallelamente le loro interazioni. Vi faccio un esempio per uno, per tutti quanti. Ci vediamo al caffè dell'università e parliamo del mistero dell'autore. va bene. Pagina dopo c'è un finto tovagliolo fatto perfettamente del caffè dell'università con sugli appunti dei ragazzi che vi accompagnano nella lettura di quella parte di dialogo. È un libro folle, completamente folle, geniale. Per me è un'idea fantastica se amate il libro. E questa, amici della Locanda, è una cosa che io amo perché è la prova che alcune cose ancora gli ebook reader non possono fare. Questa è una di quelle. Giova Avvento Amici della Locanda, come sempre vi ringrazio per il vostro tempo e la vostra attenzione. Mi auguro che questa nuova puntata del Giova Avvento vi sia piaciuta. Se fosse così lasciatemi un bel like, lasciatemi le vostre domande, commenti, ipotesi, teorie, desideri per questo Natale in risposta al video. Se ancora non siete dei nostri iscrivetevi al canale della Locanda Shakespeareana per Moschettieri e cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video Giova Consiglia, Giova Gioca o Giova Avvento. Ringrazio i ragazzi della Mondadori di Piazza Ghiaia di Parma che mi hanno ospitato per questa puntata del Giova Avvento e quindi non mi resta che augurarvi una buona lettura e un buon Natale. Pace!